Inizialmente non si sarebbe neanche accorto che i fragori di quella sera in pieno centro storico erano degli spari. Li aveva scambiati per petardi ma poi vide che il tassista Domenico Sequino era stato colpito a morte in aula davanti ai giudici della corte d'assise di Caltanissetta. Ieri è stato sentito un testimone oculare. Era presente la sera dell'omicidio quando Sequino fu raggiunto da più colpi di pistola che non gli lasciarono scampo. Il testimone ha spiegato che chi agì lo fece usando un casco integrale. Erano in due. Uno sparò alle spalle di Sequino che si trovava a poca distanza dalla chiesa madre. Giocava a carte insieme ad altri conoscenti quando i killer entrambi con i caschi entrarono in azione. Uno sparò e l'altro attendeva in sella ad uno scooter sul quale si diedero poi alla fuga. Indossavano abbigliamento di tonalità scure e i caschi hanno impedito qualsiasi riconoscimento per i PM della Didia di Caltanissetta. Però a sparare sarebbe stato Salvatore Ragnolo su ordine di Nicola Liardo e del figlio Giuseppe Liardo. L'altro complice invece non è stato individuato. I tre sono a processo. Il testimone ha risposto alle domande del PM e dei difensori degli imputati. I due Liardo e Ragnolo si sono sempre detti estranei ai fatti. In aula ieri mattina sono stati sentiti anche i due periti. I tecnici hanno riferito sulla balistica con i quattro colpi che sono partiti dalla stessa canna con il medesimo calibro. Ma anche sui supporti di intercettazioni che anche le difese ritengono decisive. Si tratta dei dialoghi intercettati in carcere tra i Liardo. I legali degli imputati hanno ancora sollevato dubbi sulla conformità delle attività tecniche effettuate sulle stesse intercettazioni e sui supporti. Una questione che si è posta anche in un'altra indagine che ha toccato i Liardo, quella ribattezzata Donne d'Onore. In aula si tornerà intanto a marzo. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giacomo Ventura, Flavio Sinatra, Davide Limoncello, Antonio Gagliano e Gioacchino Genchi. I familiari di Sequino sono parti civili assistiti dal legale Salvo Macri e hanno seguito tutte le fasi della lunga inchiesta. Nel corso delle prossime odienze verranno sentiti nuovi testimoni. I tre imputati hanno sempre escluso un coinvolgimento nell'omicidio spiegando di non aver mai avuto ragioni per decidere l'eventuale azione di morte.